Siete pronti a scoprire 5 invenzioni che cambieranno radicalmente il nostro futuro ed il mondo come lo conosciamo oggi? Passeremo da esoscheletri che ci renderanno super forti, a mezzi di trasporto che ci permetteranno di girare il mondo in meno di 5 ore. Preparatevi all'innovazione, preparatevi al futuro. Ecco a voi le 5 invenzioni futuristiche che cambieranno la nostra vita. Numero 5. I droni. I droni ormai diventati una moda e un'ossessione per molti collezionisti, è un'invenzione nata in guerra ma che sta spopolando negli ultimi tempi anche nei supermercati di tutto il mondo. Ma come ogni innovazione che si rispetti, i droni stanno per essere utilizzati per qualcosa di veramente utile, le consegne a domicilio. In Australia questa pratica è già parecchio diffusa e le consegne dei pacchi postali sono già effettuate da questi robovolanti. In Italia si sta sperimentando da tempo con Amazon Air e tutta Europa sta puntando gli occhi su questo innovativo sistema di trasporto pacchi, con segne in meno di 30 minuti e cieli infestati da robot. E' questo che ci aspetta nell'immediato futuro? Numero 4. Automobili futuristiche. Le automobili futuristiche esistono già, non parlo di macchine volanti che comunque dovrebbero comparire intorno al 2025. Parlo di quelle che già stanno circolando per le strade di questo mondo. Le automobili che si guidano da sole, per esempio, sono già una realtà confermata. Basti pensare a quelle di Google e della sua Street View. Poi ci sono tutte quelle automobili che promettono di essere così sicure da evitare qualsiasi incidente. E infine, le auto elettriche che solo a vedere i progetti c'è letteralmente da rimanerci a bocca aperta. La famosa casa di costruzione automobilistica Tesla ne è solo un bellissimo esempio. Ma anche altre realtà stanno cominciando a prendere seriamente in esame la produzione di macchine del futuro. Insomma, la tecnologia si evolve sempre più velocemente. E forse, tra qualche anno, supereremo la concezione di futuro di autori fantascientifici del calibro di Asimov. Numero 3. Stampante 3D. Tutti ormai conosciamo le potenzialità delle stampanti 3D. Ne sentiamo parlare tutti i giorni in televisione. Ma forse, non tutti sanno che lo sviluppo e l'impiego di questo oggetto rivoluzionario è solo all'inizio. Solo da poco, infatti, stiamo riuscendo a creare cose straordinarie con questo oggetto. Organi umani fatti in resine speciali e di conseguenza tra pianti che stanno salvando le vite di molte persone. Tutto questo, ormai, è una normalità. Ma non solo. Si sta studiando persino il modo di stampare del cibo in pillole. Pezzi di ricambio per navicelle spaziali e molti altri oggetti o componenti così piccoli che sarebbero impossibili per l'uomo da creare. Ragazzi, stiamo entrando lentamente o molto velocemente, dipende da che punto di vista si guardi la cosa, in una nuova era. Siete pronti? Numero 2. Esoscheletro. Il Titan Arm è un braccio meccanico inventato e sviluppato da giovani studenti dell'Università della Pennsylvania. Questa invenzione permetterebbe di aggiungere alla nostra forza muscolare nelle braccia una capacità di 15 kg in più. Il Titan Arm non servirà a fare i supereroi come potremmo pensare, ma sarà una soluzione per aiutare quelle persone o quei lavoratori con problemi seri alla schiena. Realizzato in alluminio e acciaio, con batterie al momento ingombranti da portare, per l'appunto sulla schiena, costa pochissimo, intorno ai 2000 dollari. Potrebbe anche diventare uno strumento di utilizzo comune in aiuto di chi solleva costantemente pesi, come per esempio i traslocatori. E sarà proprio grazie a questo braccio robotico che, forse, in futuro, il mondo del lavoro cambierà di molto. E in prima posizione l'Hyperloop. E per finire un'invenzione che mi ha a dire poco sbalordito. L'Hyperloop, il quinto sistema di trasporto terrestre che prima o poi verrà messo in pratica e reso disponibile per noi uomini. Sto parlando di qualcosa di incredibile, a metà fra un treno e una macchina, ma veloce quanto un aereo. L'Hyperloop viaggerà alla velocità di oltre 1200 km orari. Nel 2019 si trarà il primo viaggio passeggeri sulla tratta Los Angeles-San Francisco. Una corsa di 15 secondi a 640 km orari. Questo viaggio alla velocità del suono batterà qualsiasi record sulla Terra. Tanto per farvi un esempio, si potrà attraversare una tratta come Milano-Roma in tipo 20 minuti. Peccato che in Italia i politici sembrerebbero poco interessati a questa innovazione. Queste erano solo alcune e, a mio parere, anche le più importanti invenzioni che cambieranno la nostra vita nell'immediato futuro. Se ne conoscete altre, scrivetemelo tranquillamente nei commenti e chissà, magari potremmo addirittura fare un secondo episodio. Vi ricordo di passare da tutti i miei social che trovate rigorosamente in descrizione. Un mega salutone dal vostro Dr. Vendetta di fiducia e ci vediamo come sempre al prossimo futuristico video! Ciao!